Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Ho sacrificato la danza per la mia famiglia, mi è costato molto. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha riflettuto sul suo percorso professionale in un'intervista recente, ricordando con nostalgia la bella televisione piena di gente e ballerini. Ha iniziato a lavorare in Rai nel 1996 e conosce Amadeus da 21 anni. Giovanna ha rivelato che, incontrando Amadeus, ha messo da parte la sua carriera di ballerina. Anche se non ha rimpianti, volevo fare la ballerina e quello facevo. Ho incontrato Amadeus ed è stato la fine ma è stato l'inizio di un sogno. Sono proprio felice. La danza è sempre stata una parte fondamentale della sua vita. Ha studiato danza classica, partecipato a concorsi internazionali, e vissuto a stretto contatto con i suoi maestri di Napoli. Considerati una seconda famiglia. Tuttavia, ha deciso di allontanarsi dal ballo per dedicarsi al figlio Osè. Si è commossa nel rivedere i suoi insegnanti di danza, una sorpresa organizzata da Amadeus. Parlando del loro rapporto, Giovanna ha scherzato sulla gelosia di entrambi, confessando di essere più razionale ma pronta a intervenire quando necessario. Nonostante i sacrifici, ora che Osè è cresciuto, spera di riprendere la sua carriera, magari non come ballerina, ma in altre forme.